L'origine storica degli stiliti risale all'antica Grecia, con particolare riguardo all'uso atenese di scolpire sulla pietra di una colonna i nomi di coloro che dovevano essere aditati al pubblico ludibrio per aver agito in senso contrario agli interessi della comunità, specialmente col tradimento. Non di meno il termine divenne d'uso comune in epoca cristiana per descrivere un ben diverso referente, quello di nuove e originali professioni di fede. Nel III e nel IV secolo furono propri cristiani che proposero al mondo un diverso modulo di approccio alla priera, nel significato originario di elevazione dell'anima e nello stesso tempo al ravvenimento e alla meditazione. In tale ambito ebbe momenti di significativa diffusione e di generale apprezzamento l'esempio degli stiliti, così chiamati alla luce di una singolare esperienza di forte richiamo e la sensibilità media dell'epoca, quella di ritirarsi sulla sommità di una colonna, in greco stilos, per condurvi una vita di penitenza e di stretto rapporto con Dio. San Simone Stilita, che diede particolare visibilità al fenomeno, visse gli ultimi 37 anni di una lunga vita di pensiero e di sacrificio, conclusasi nel 459 d.C., in cima alla sua colonna, che col passare del tempo sarebbe stata caratterizzata da altezze crescenti, all'inizio nell'ordine dei 4 metri e più tardi di 15. Al vertice esisteva una piattaforma, anch'essa di pietra, che secondo le cronache aveva una superficie di soli 4 metri quadrati, nel cui breve ambito il santo viveva e pregava, ma senza sottrarsi al dialogo con turbe di fedeli che accorrevano da ogni dove per chiedere grazie e intercessioni. Stare in cima alle colonne richiedeva doti non comuni di spiritualità e nello stesso tempo di sopportazione fisica. I contatti col terreno sottostante erano assicurati da un semplice sistema di carrucole, necessario per garantire agli stiliti il modesto cibo necessario alla sopravvivenza e gli abiti altrettanto modesti per resistere alle intemperie. I reperti lapidei della colonna di Simeone e della chiesa successivamente erette in onore del santo sono stati lungamente visitabili in Siria, a nord-ovest di Aleppo. Il periodo di cui parliamo vide una significativa proliferazione degli stiliti. Tra i più noti si ricorda anche San Simeone il Giovane, così da differenziarlo da San Simeone che abbiamo parlato poco fa, vissuto circa un secolo prima, che diversamente da altri non fu allievo alieno dal viaggiare e dal portare questo esempio di fede in località diverse, dove si ritirava in preghiera e in penitenza sulle semimità di nuove colonne. L'esperienza stilita si sarebbe esaurita relativamente presto, assieme agli ultimi sussulti della romanità classica, a favore di nuove esperienze e di un nuovo impegno del monachesimo nella vita sociale e nel lavoro. Basti pensare ai benedettini. La fama di questi singolari monaci si è tradotta in saltuari e imitazioni che si sono protratte fino all'epoca contemporanea. Nel nuovo millennio esiste un sacerdote di religione ortodossa, padre Massimo Cattarazze, il quale vive da oltre un ventennio in cima ad un pinnacolo naturale situato in Georgia e da alto circa 40 metri. Lassù il novello stilita dispone di 150 metri quadrati su cui ha costruito un piccolo ricovero e donde scende brevemente due volte a settimana per partecipare alle funzioni della sua comunità sottostante. Ciò utilizzando una perigliosa scala di corda in un percorso di almeno 20 minuti. Quindi questa è una puntata per farvi capire che insomma stare in quarantena è difficile ma pensate a questo povero cristiano di San Simeone che è stato 37 anni in 4 metri quadrati a vivere tutto il giorno senza poter mai scendere, senza volendo mai scendere. Quindi resistiamo e diventeremo tutti dei santi esteriti. La prossima puntata ce ne andiamo a cercare una legione perduta. Ciao a tutti!